Ciao a tutti, sono Mr.Dugger e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presenterò come piantare i bulbi di Iris Blue Magic. Iniziamo a misurare il nostro vaso per poi insegnare con delle matite oppure dei pezzi di legno dove andremo a piantare i nostri bulbi. Io in questo vaso posso mettere fino a un massimo di 6 bulbi. Ma se avete vasi più grandi e anche di più. Una volta segnati i punti dove mettere i nostri bulbi, facciamo con i nostri bastoncini di legno una profondità di circa 5 cm da dove possiamo mettere i bulbi. Una volta messi i bulbi, iniziamo a coprire ad 1 a 1 ogni bulbo. Una volta coperti iniziamo a innaffiare con un po' d'acqua e la lasciamoli crescere fino a quando inizieranno a diventare sempre più grandi. Se vi interessa acquistare uno dei nostri bulbi, troverete sotto la descrizione il link. Vi ringrazio e grazie per aver visto questo video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!